Qual hai scelto? Il saggio breve su la letteratura e la vita italiana. Ah ok, come ti sono sembrate le tracce quest'anno? Abbastanza toste. Sì, dici? Ma erano comunque abbastanza interessanti magari. Sì, sì, sono sempre interessanti, però sono difficili. Domani? Domani si sta a vedere. Quale prova hai scelto? La tipologia B. E il tema era su? Tecnico scientifico sulla tecnologia, comunque la comunicazione e la connessione. Senti, che giudizio hai di questi temi quest'anno? Pensavo peggio, devo essere sincera. Pensavo veramente... Abbastanza interessanti, insomma. E per domani? Eh, si spera bene, si spera sia una cosa fattibile. Comunque una progettazione, le domande siano abbastanza tranquille. Bocca al lupo? Ok. Quale hai scelto? Quale tipologia hai scelto? No, io ho fatto una tipologia a parte, cioè sostegno, ho fatto su D'Annunzio. Ah, ok, perfetto. Difficile? Abbastanza. Quale hai scelto? Niente, niente. Quello storico, però... Non sei soddisfatta? La famo perdere. Ok. Un esagio breve sul Mediterraneo. Ah, ok, uno dei temi più attuali, forse, bello. Ti eri preparato su questo? No, perché pensavo fosse talmente scontato. In effetti sì, e gli altri come ti sono sembrati? Gli altri difficili, più che altro parecchio strani come argomenti, di carattere un po' troppo generale. Che cosa vi aspettavate invece? Io temi più... saprei, forse qualcosa tipo sulla guerra, anche prima guerra mondiale, ricorrenze particolari. La tipologia analisi del testo. Ah, quindi Calvino. Sì, esatto. Ti eri preparata, te l'aspettavi? Allora, la professoressa aveva, diciamo, un po' indovinato, quindi uno se lo ripassa un po' a casa, però essendo stato un autore che si è fatto comunque alla fine dell'anno, in due giorni, è stato un po' difficile, ci siamo un po' arrangiati. Il brano com'era? No, no, il brano era abbastanza semplice, ricollegabile a vari autori che si erano fatti durante l'anno, a tutte le materie, quindi... Soddisfatta? Sì, sì, abbastanza, sì, stare a vedere i risultati.